La prima esperienza di questo comitato di gestione nella nuova governance di Assoretti ed è un'esperienza sicuramente positiva, chiaramente il fatto che l'azienda abbia scelto me per partecipare a questo comitato che analizza tutti i stagini strategici, tecnici dell'impatto sulle reti mi ha chiaramente dato soddisfazione e credo che comunque possa fungere da esempio per come con la competenza, con la voglia di fare non sia il genere a guidare ma le persone vengano scelte, questo è un esempio che nell'ambito della nostra azienda trova parecchie situazioni di riscontro positivo e che mi auguro possa servire insomma anche per creare prospettive future per tutte le donne che si impegnano nel lavoro.